Buonasera, buonasera a tutti e tutte. La pioggia di Roma rallenta i trasporti. Benvenuta a Ilaria Capua. Questo è uno degli eventi che peraltro registriamo e poi sarà visibile su tutti i nostri canali. Nei prossimi giorni lo dico perché probabilmente la pioggia ha anche impedito a un po' di persone di arrivare. Io ho letto e amato moltissimo questo ultimo sforzo, quest'ultima fatica di Ilaria. Vi dirò pochissime cose per introdurla e per introdurre con lei la sorpresa. Dunque, la pandemia non è scomparsa. Deve fare i conti con le vaccinazioni di massa compiute nel biennio passato, ma noi dobbiamo continuare a farci i conti con piena consapevolezza. Lo sappiamo bene tutti, ha turbato le nostre psicologie. Ieri era la giornata mondiale sulla salute mentale e sappiamo quanto questa pandemia ha, anche l'OMS ha ricordato quanto abbia rotto l'illusione di una invulnerabilità assoluta. Ha imposto comportamenti collettivi stranianti, ha accentuato vecchie nevrosi e prodotte di nuove. Soprattutto ha sparso sofferenza, dolore, dolore, lutto, conflitti in quantità, in dimensioni e profondità sconvolgenti che forse non dobbiamo rimuovere dalla discussione pubblica. Certe volte lo penso, che abbiamo già archiviato questa fase. Ma la pandemia ha anche mobilitato, e qui arrivo al libro di Dilaria, energie e risorse mai viste prima, ha capovolto le agende politiche e statuali, ha suscitato moti di solidarietà, di abnegazione, di condivisione, di relazione anche commoventi. è stata e soprattutto potrà essere, dovrà essere, una sfida, un'occasione eccezionale per almeno, io direi, due grandi obiettivi. Il primo è dare alla scienza, e davvero siamo molto felici di avere una grande scienziata con noi oggi al maxi, il posto che le spetta nella gerarchia dei valori e delle scelte di una comunità sempre più globale, pur sapendo che si tratta di un cammino fatto di scoperte, di insuccessi, trials and errors, di strappi e di sperimentazioni. La seconda, e il secondo grande obiettivo, io credo, è quello di incidere sulle linee di faglia fondamentali della società, dell'economia, del rapporto con la natura. Quelle linee di faglia che sono state mosse, ma anche ricuscite dalla pandemia. Ilaria Capua dirige, lo sapete, il centro di eccellenza One Health dell'Università della Florida. È, come è noto, un'italiana ascoltata e apprezzata dai ricercatori in tutto il mondo. E in questo libro non ci offre una ricetta chiusa, non stila una diagnosi definitiva, ma con questa sua autorevolezza dotata anche di semplicità, che la rende abbastanza unica, cioè permettendo a tutti noi di affacciarci su questioni complesse e specialistiche, facendocele comprendere, ci accompagna nel cuore del futuro prossimo venturo. Ascoltate questo passaggio chiave che mi sono estratta dal libro. Scrive Ilaria. Possiamo scegliere di perseguire ancora modelli di sviluppo palesemente dannosi per il sistema, salute compresa, oppure comprendere finalmente che quanto è dannoso per il pianeta è dannoso anche per noi e che quindi, se vogliamo sopravvivere, dobbiamo promuovere un mondo più sostenibile. Possiamo iniziare sin da subito, cominciando a esercitare con impegno vero il rispetto e dell'equità che finora ci sono mancati, oppure possiamo aspettare fino alla prossima pandemia. Persone, animali, piante, ambiente, la meraviglia e la trasformazione sono intimamente connesse e legate. Mi veniva da pensare, leggendoti Ilaria, a quella definizione che ha dato Emanuele Coccia, la metafisica della mescolanza, una dimensione della mescolanza tra il vivente. Ma sono legate anche, degrado, spreco, il contagio in una storia millenaria che si modifica e si ripete, si adatta e che procede a strappi. Spagnola, asiatica, ebola, aviaria, suina e così via, Ilaria Capua ci fa vedere le connessioni e le diversità, ci racconta le procedure, le terapie, fino a focalizzare il punto che secondo me è il punto critico di quest'ultima pandemia. Ha portato a galla i disequilibri e le fragilità che abbiamo contribuito a creare nell'ecosistema. Ecco perché, anche sul piano, come posso dire, delle nostre biografie personali, il mio incontro con Ilaria avviene su questo tema, sul tema dell'ecologia. Perché questo equilibrio saltato ci sta costringendo a ripensare da capo il nostro rapporto con la natura. Sono, e concludo, snodi, temi ai quali il Maxi fa molta attenzione da anni, con tante mostre. Abbiamo avuto per tanti mesi la grande mostra di Salgado, che ci è stata d'aiuto a affrontare, qui sono venuti scienziati, antropologi, ecologisti, a ragionare su questo. E voglio dirvi che sono temi che stiamo anche provando ad affrontare, come direbbe Gandhi, cercando di essere noi il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo. Cioè, provando a immaginare l'evoluzione del Maxi, in questo progetto che si chiama Grande Maxi, su cui non vi annoio, ma come un quadrante di sperimentazione. Vi dico solo una cosa sul Grande Maxi, su questo invito Ilaria a venire sul palco. Abbiamo immaginato di costruire attorno a questo edificio un grande processo di rinaturalizzazione, o anzi di demineralizzazione, costruendo la prima isola microclimatica di questa città e forse d'Italia. E abbiamo affidato questo progetto a un architetto paesaggista che si chiama Bas Smet, che sta facendo la stessa cosa a Parigi, attorno alla chiesa di Notre-Dame ricostruita dopo l'incendio. Un'isola microclimatica, cioè uno degli strumenti per contrastare l'effetto serra. Mi fermo qui, ma è solo per dire che molte delle indicazioni meravigliose e trasformative di questo libro sono anche le piste su cui lavora quotidianamente il Maxi e speriamo in futuro il Grande Maxi. A te, Ilaria. Grazie, grazie, grazie Giovanna. Grazie e buonasera di essere qui nonostante le condizioni meteorologiche avverse. e se mi mandate la prima diapositiva vedete quanta empatia c'è fra me e Giovanna. e ho voluto mettere questa prima diapositiva così, perché questa fa paura questa immagine, no? Che cosa ricorda? Ricorda la bomba atomica questa immagine qua? e invece no, e invece la pioggia è il ciclo dell'acqua, è il nostro ecosistema che si rigenera. Io sono venuta a vedere la mostra di Salgado in primavera e devo dire che trovo fantastico che una struttura come questa, che nasce da delle radici così diverse stia abbracciando dei problemi così veri, così urgenti da affrontare. Dunque, siccome non vi voglio annoiare, avrei pensato di fare una cosa. Grazie a un mio complice, che non sapeva di essere mio complice fino a pochi giorni fa io di solito questi dialoghi li faccio con una donna del futuro o un uomo del futuro e allora, siccome non ce l'avevo uno per le mani di donna o di uomo del futuro ho chiesto a un mio amico, gli ho detto ma anche tu per caso c'è un ragazzino? E così avrò una compagna per questa presentazione, che è proprio una donna del futuro e che si chiama Anita. Io non la conosco, nel senso che conosco il papà, ma lei non la conoscevo quindi lei è molto emozionata, non sa bene che cosa le succederà ma io sono certa, siccome conosco il padre da molti anni, che mi sarà sul pezzo e perché ho deciso di chiamare Anita? Ho deciso di chiamare Anita perché è inutile che noi queste cose ce le rigiriamo tra di noi le cose che vi dirò, è inutile che ci stiamo sempre a parlare noi tra accademici e accademici cantiamo e ce la suoniamo, noi dobbiamo aprirci e dobbiamo aprirci a quello che sono i loro occhi quindi con questo vi presento Anita. Prego, un applauso di incoraggiamento ad Anita che fa la terza media, quindi forse ci scappa anche la tesina della terza media ecco, allora con Anita io vorrò fare, mi sentite bene? È buono, sì, perché mi sembra un po' sibilante va bene? Allora, con Anita faremo una chiacchierata, io le farò delle domande perché volevo proprio che lei mi accompagnasse in questo percorso e ci accompagnasse allora iniziamo da qui, iniziamo dal fatto che anche se voi proprio non ve l'aspettavate è arrivata una pandemia, io me l'aspettavo perché le pandemie sono eventi naturali che si verificano a cadenza regolare ogni tutto numero di anni poi io sono anche di parte perché ho studiato le pandemie tutta la vita e quindi non è che uno sta là sopra al microscopio a farsi venire la gobba per una cosa che non avverrà, quindi io ero certa che sarebbe arrivata una pandemia siccome vi informo che noi Homo sapiens apparteniamo alla categoria degli animali non delle piante, degli animali, è chiaro che diciamo un virus pandemico piuttosto che crearsi dal nulla viene fuori da un nostro cugino da un nostro diciamo lontano, 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 lontano parente animale e poi che cosa succede? Che questi virus prendono il sopravvento e fanno il giro del mondo però io non vi parlo di Covid stasera perché ormai quello che dobbiamo fare lo sappiamo sappiamo? Ci avete qualche dubbio? No, sappiamo cosa bisogna fare io vi voglio parlare di alcune delle cose che il Covid ci lascia e di alcune cose su cui il Covid ci fa riflettere e ci implora di riflettere allora vi ricorderete che all'inizio, all'inizio, all'inizio quando tutti voi dicevate ma che stanno a dire questi matti che c'è sto virus in Cina ma di che stanno parlando, vi ricorderete che costruivano gli ospedali a velocità di razzo in dieci giorni costruivano gli ospedali perché? Perché la pandemia ha messo in crisi i sistemi sanitari di tantissimi paesi cioè la pandemia che cosa fa? Ha un tasso di attacco che colpisce tante 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 persone che hanno bisogno di tanta tanta assistenza e quindi c'è bisogno di rivedere quello che è la struttura degli ospedali. Adesso faccio una domanda Anita, sei pronta? Secondo te, questa qua che cos'è? Che cosa rappresenta questa mappa? è una cartina con le temperature, bravissima, però non si sente il microfono di Anita è una cartina e vi volevo dire che da quando Homo Sapiens ha iniziato a misurare la temperatura non c'è stato mai un anno come questo cioè questo è l'anno più caldo di sempre e ogni tanto quando vado chiedo c'è qualcuna che era incinta nel 2003 perché chi era incinta nel 2003 si ricorda l'estate 2003 come un'estate che praticamente ecco, quella però è l'estate del 2003 noi stiamo parlando di un anno che è l'anno più caldo della storia e l'anno più caldo della storia c'ha delle ramificazioni, no? e che cosa provoca l'anno più caldo della storia? provoca eventi meteorologici estremi provoca allagamenti provoca siccità che ci sta l'anno più caldo della storia ci sta e questi sono tutti problemi che coesistono coesistono in questo momento e sono tutti problemi che noi non possiamo far finta di non vedere e non possiamo neanche far finta di vedere che il nostro sistema agroalimentare è completamente globalizzato voi avete adesso sentito qualcosa perché magari non ci guardate quando comprate pomodori o altre cose che magari arrivano da fuori ma conosciamo tutti la tragedia del grano che doveva andare in Ucraina e che non partiva e che il grano serve per fare il pane e quindi se ai paesi che non hanno tanto risorse non gli arriva il grano per fare il pane è chiaro che la situazione si fa molto molto scura e quindi stasera parleremo di salto in alto nel senso che quando c'è una sfida c'è un obiettivo da raggiungere si fa quello che si può con gli strumenti che si hanno e voi riconoscerete che queste modalità per fare salto in alto sono un po' arcaiche perché il salto in alto prima si faceva buttandosi di pancia e quindi poi il salto che tu riuscivi a fare era limitato anche da questo guardate lui poverino questo è uno vero mica un avapar questo era uno che faceva il salto in alto così così e tutti facevano il salto in alto così e però non si riusciva a alzare sta sticella non si riusciva ad arrivare più in alto fino a quando è arrivato Fosbury mister Fosbury il quale che cosa ti ha pensato ma io invece di saltare a pesce così che ci do anche una capocciata quasi quasi mi volto mi do una spinta che diciamo si potenzia attraverso i muscoli della schiena ha rovesciato completamente un paradigma e adesso tutti saltano in questo modo qua quindi quando voi uscirete da questa sala io vi voglio vedere tutti che uscite così perché avete capito che bisogna cambiare il modo di ragionare benissimo chiusa la parentesi sportiva arriviamo a parlare di salute circolare allora chiederei ad Anita per piacere se mi dice che cosa vedi che cosa ti sembra vedo i quattro elementi la terra, l'acqua, l'aria e il fuoco visto ho scelta bene facciamo un applauso oh mica era scontato aria, acqua, terra e fuoco e dietro aria, acqua, terra e fuoco c'è una specie di cerchio che dopo riprenderemo che è diciamo l'interpretazione del pensiero dei filosofi greci che dicevano che la nostra salute la nostra sopravvivenza dipende dall'equilibrio fra aria, acqua, terra e fuoco e io proprio qua vi voglio portare partiamo dalla terra e partiamo dalla biodiversità Giovanna Melandri che ci ha raccontato il grande Maxi che è un progetto fantastico che seguiremo e di cui saremo parte tutti insieme io sono certa che voi tutti quando questa parola biodiversità la sentite sì perché biodiversità è importante giusto bisogna rispettare la biodiversità e allora adesso vi spiego un po' perché bisogna rispettare questa biodiversità allora questo qua qualcuno lo sa che cos'è è il pangolino è il pangolino che vedete non è un animale molto intelligent c'è un cervello così quindi è un animale poveretto indifeso è un animale pensate che è uno degli animali più bracconati al mondo cioè ci sono delle persone che vanno li cacciano li ammazzano gli tolgono le squame perché le squame vengono usate per la medicina tradizionale cinese e anche poi li mangiano e pensate che nel 2019 prima della pandemia hanno sequestrato 10 tonnellate di squame di pangolino cioè capito quanti pangolini bisogna stendere per fare 10 tonnellate di squame le squame sono leggere mica sono pesanti quindi il pangolino e animali della foresta che sono animali in pericolo in via di estinzione bisogna lasciarli stare non bisogna andare là e massacrarli perché lo vendi al mercato piuttosto che piuttosto che bisogna rispettarli perché dai pangolini come da tanti altri animali possono esserci anche delle cose che è meglio che rimangono lì e la biodiversità quindi significa anche conoscere la diversità e rispettarla e non invadere degli spazi che non sono spazi nostri però la biodiversità è anche una fonte di tesori tesori veri che cos'è questa Arianna che cos'è questa è una conchiglia è una conchiglia di mare e lo sapete voi cosa c'è dentro le conchiglie di mare ci sono o i paguri che hanno le zampe o i lumaconi e questa è una è una conchiglia che dentro avrebbe un lumacone e questo lumacone però è un lumacone cacciatore e vi garantisco che fare la lumaca di mare e andare a caccia è una cosa abbastanza difficile perché tu sei sotto il mare e devi andare a caccia dei pesci come fai sei una lumaca e allora che cosa ti ha pensato madre natura madre natura ha dotato questo lumacone di una proboscide trac e poi dentro la proboscide c'è un pungiglione e quando da levarti del lumacone che se ne sta lì a fare tipo fa finta di niente tipo sono qua di passaggio passa un pescioletto lui cosa fa ta proboscide ta pungiglione e gli inietta il veleno e il pesce muore e voi dite sì vabbè però noi queste cose le abbiamo viste in televisione ce le ha già dette Piero Angela cento volte e infatti ci avete ragione però ci manca un pezzo della storia perché perché dentro quel pungiglione c'è un veleno che appunto paralizza il malcapitato pescioletto ma questo veleno analizzato si è mostrato essere farmacologicamente attivo e essere in grado di fare passare il dolore ai mal di testa altrimenti incurabili dal punto di vista del dolore cioè ci sono delle persone poverette che hanno dei mal di testa che non passano con nulla con nulla o perché soffrono di forma di amicrania o perché ci hanno avuto interventi o perché hanno battuto la testa e l'unica molecola che riesce a far ripassare questo mal di testa terribile dove sta dentro il veleno del lumacone pazzesco allora quello che vi voglio dire è che madre natura le cose non è che le ha messe nei pacchettini e tu te le vai a prendere al supermercato la penicellina madre natura dove l'ha messa nei fuori le muffe ma che vi pare a voi un posto facile dove si può andare a cercare qualcosa dentro la muffa quindi la biodiversità in realtà che cosa significa? Significa che il nostro pianeta il nostro sacco amniotico diciamo il nostro sistema di sostentamento ha una una sua elasticità ha delle riserve ha dei tesori nascosti ha delle delle cose che ci servono che ci servono per sopravvivere e se noi andiamo distruggendo tutto quello che incontriamo è chiaro che questa lumacone muoiono ciao ti saluto addio quelli che hanno un mal di testa si tengono un mal di testa quindi biodiversità vuol dire che lì fuori c'è un universo che noi non conosciamo ed è un universo che ci può risolvere dei problemi molto importanti e poi la terra madre terra produce il cibo perché noi dobbiamo mangiare per sopravvivere e anche i vegetariani mangiano qualcosa di vivo cioè brucano l'erba e scusate stavo pensando a una pecora gli animali vegetariani anche le persone vegetariani ma anche gli animali vegetariani mangiano quello che la madre terra ci offre e perché senza piante e senza animali non so se voi mangiate la sabbia o le pietre però sinceramente sono un po' indigeste quindi noi dobbiamo pensare quando pensiamo alla nostra salute anche alla salute di quello che mangiamo perché comunque è parte diventa parte di noi e infatti questo sono delle persone che stanno vaccinando degli animali perché anche gli animali prendono le malattie e gli animali muoiono di certe malattie e gli animali sono fonte di proteine nobili che servono ai ragazzini del mondo per sviluppare anche le capacità cognitive e le capacità fisiche e però non dobbiamo guardare e occuparci solo della salute degli animali perché ci sono pure malattie delle piante e le piante costituiscono l'ottanta per cento del cibo che sfama l'umanità e voi riconoscete queste piante che sono aria olivi tu lo sai che sono olivi vivi in una zona dove ci sono un sacco di olivi però sono gli olivi del Salento sono gli olivi che hanno preso la xylella che è una malattia infettiva e pensate voi che nonostante gli alberi per fermare una malattia devi fermare l'ospite ma gli alberi stanno fermi cioè non è che bisogna fare il lockdown degli alberi giusto? gli alberi stanno fermi eppure siccome questa è una malattia trasmessa da vettori non si è riuscita a fermarla non si è stata in grado di gestirla e la xylella ha devastato centinaia migliaia di ettari di uliveti in Puglia e non ne riusciamo di venire a capo quando gli alberi stanno fermi cioè capito se era una malattia dei conigli va lì a chiappare i conigli che scappano e deve chiappare uno per uno ma una malattia degli alberi può essere che noi non riusciamo a trovare il modo di intervenire ecco e adesso passiamo al secondo elemento il secondo elemento l'acqua ecco il nostro pianeta si chiama pianeta blu perché al 70% è ricoperto di acqua e nelle nostre acque stanno succedendo delle cose veramente veramente brutte questa è una artaruga di mare esatto e questa è una tartaruga di mare però non sta molto bene no? che dice Arianna? eh no c'ha delle lesioni guardate che brutta poveraccia sta tartaruga e sono lesioni da herpes sapete l'herpes è un virus e l'herpes è quello della febbre capito quando uno quando viene fuori la febbre quando uno non sta tanto bene quando è stressato no? quando è stressato tac l'herpes che era latente in qualche ganglio viene fuori e il meccanismo è esattamente lo stesso questa è una tartaruga stressata che non può andarsi a comprare lo Zovirax è però una tartaruga che è stressata non perché c'ha problemi di traffico ma perché vive in un'acqua che è troppo calda perché vive in un'acqua che è troppo piena di batteri che vive in un'acqua che è troppo piena di residui diciamo dell'intervento umano cioè la cacca delle persone che poi finire nel mare sono mezze scombinate per via delle correnti che cambiano ed ecco il risultato allora le tartarughe di mezzo mondo si stanno combinando così e guardate che andare in giro per i maio che tartarughe migrano fanno un sacco di chilometri combinate così non non ce la fanno no? non ce la fanno si disorientano si perdono e muoiono e quindi queste sono sentinelle sono sentinelle di quello che noi stiamo facendo ai nostri mari pensiamo alle barriere coralline no? che si dice però certo le barriere coralline ma guardate quello è un macello vero quello è un macello vero quelli sono degli organismi incredibilmente complessi che fanno funzionare l'ecosistema diceva Giovanna Milandi l'ecosistema dell'oceano e le barriere coralline sono adesso tutte bianche rinzecchite perché? perché pure il corallo è difficile che scappa dove va il corallo fa come l'albero rimane là e si prende quello che passa al convento oltre a come stiamo trattando i nostri oceani voi sapete che noi io e Arianna di sicuro siamo fatte al 70% di acqua come tutti gli altri qua dentro più o meno quindi sto 70% diciamo che è una parte abbastanza significativa no? e però le nostre riserva di acqua dolce perché l'acqua di mare diversa dall'acqua dolce la stiamo veramente trattando male questa che cos'è Marianna? cosa vedi qua? è plastica 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 l'altro giorno un ragazzino mi ha detto qui c'è un cinghiale un castoro che ha fatto una diga proprio strana non è una diga strana di un castoro è la roba che buttiamo noi e che non siamo in grado di smaltire ma adesso al di là del problema orribile di questa cosa qua della plastica voi dovete sapere che la plastica non si degrada difficilissimo però dopo un po' dopo un po' dopo un po' si degrada e diventa microplastica mazzate microplastica e la microplastica è piccola 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 come un più piccolo di un granulino piccolo 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 e lo sapete dove hanno trovato le microplastiche? chi lo sa? è molto peggio che magari nello stomaco di qualche animale basta nel cordone umbilicale nella placenta di delle signore incinta quella zona là è fatta per proteggere il bambino cioè è il massimo livello di protezione eppure hanno trovato le microplastiche dentro quel sistema io non lo so che cosa fanno le microplastiche io quello che vi posso dire è che signore quando dovete lavare un contenitore di plastica smadonnate perché non si sgrassa mai è vero o no? è perché la plastica ha delle capacità come di attirare delle cose che le circondano fa un po' da calamita quindi noi non lo sappiamo se queste plastiche possono portare in giro non lo sappiamo delle sostanze tosi non sappiamo niente sappiamo solo che siamo pieni di plastica e sappiamo solo lo sapete che c'è un'isola che è grande come il Texas che vi garantisco che è proprio grande che è fatto di plastica e voi dite sì vabbè ma io che cosa posso fare? Allora ci arriviamo ci arriviamo ci arriviamo perché questo problema qua non è il problema solo dei nostri governanti è il problema di ognuno di noi e adesso devo fare un passaggio su una cosa che c'è fra terra e acqua perché questi mondi sono collegati tra di loro voi lo sapete che cos'è l'antibiotico resistenza? le infezioni ospedaliere lo sapete cosa sono? le infezioni ospedaliere le infezioni ospedaliere sono delle infezioni che si prendono in ospedale che già non va tanto bene perché sei in ospedale non dovresti prendere infezioni ma sono delle infezioni che sono causate da dei batteri che sono super resistenti e questi batteri diventano super resistenti perché noi Homo sapiens abbiamo usato in maniera inappropriata gli antibiotici che sono l'unica arma che noi abbiamo contro questi batteri e che cosa succede? succede che uno va in ospedale si opera si fa la protesi da anca tutto bene tutto a posto arrivederci signora vi viene la febbre infezione ospedaliera vi saluto perché contro queste infezioni ospedaliere siccome i batteri sono resistenti a tutto non c'è niente da fare e voi dite sì vabbè ma io allora intanto l'antibiotico resistenza è un fenomeno che si genera per abuso di antibiotici quando se ne usano troppi l'antibiotico va usato quando si ha la febbre a 38 e mezzo non si usa per dare la copertura perché così ci diamo la copertura perché quell'antibiotico quando ti passa attraverso il corpo dove va a finire poi? cioè secondo voi voi prendete l'antibiotico e sparisce va a finire nelle urine va a finire nelle feci e da lì pluk nell'acqua di prima pluk nella terra di prima quando si fa una terapia antibiotica bisogna farla tutta non si fa mezza scatola adesso tanto questi me li tengo perché si creano tutta una serie di forme di resistenza legate all'uso inappropriato è chiaro che gli antibiotici nell'ambiente ci vanno pure perché gli antibiotici si usano per curare gli animali e quindi bisogna ridurre l'utilizzo degli antibiotici negli animali perché gli animali di cacca ne fanno veramente tanta le mucche guardate fanno delle cacche così sapete quanti batteri alterati ci sono quando si trattano gli animali da allevamento quindi noi attraverso l'abuso di antibiotici stiamo selezionando delle popolazioni a cavallo tra acqua e terra e ospedale che sta sulla terra che renderanno la vita difficile ai nostri clinici che devono curare pazienti con questo tipo di infezione e voi dite ma io che posso fare ve lo posso dire un'altra cosa i farmaci non buttate nell'immondizia i farmaci scaduti quando votate l'armadio delle medicine non le buttate nell'immondizia perché dall'immondizia va a finire la discarica dalla discarica va a finire invece bisogna smaltirli in diciamo contenitori dedicati di cui Roma avrebbe un po' più bisogno ma bisogna smaltirli in modo tale che non ci vadano dentro l'ambiente bisogna smaltirli in maniera oculata quindi mai più vi voglio vedere a buttare qualsiasi farmaco nel cestino dell'immondizia nel secco non va bene 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 passiamo a questa che la prima volta che l'ho fatta vedere uno mi ha detto ma che sono ecografie no cosa sono Arianna Uragani sono oddio ma io l'ho chiamata sempre Arianna e perché non me l'hai detto prima allora si chiama Anita non si chiama e perché non me l'avete detto mi sono confusa scusate chiedo scusa facciamo un applauso a Anita e al padre che finalmente me l'ha detta a che figura mi fai fare avevo detto che non la conoscevo Anita mi dispiace guarda sono diventata rossa veramente sono mortificata però sul messaggio ti ho scritto Anita o ti ho scritto Arianna ho scritto Anita scusate Anita adesso cosa che come facciamo dopo questa figuraccia pessima vabbè ci sta l'uragano Anita no allora perché vi metto su questa diapositiva perché voi dovete sapere che ogni anno in certe parti del mondo arrivano gli uragani e gli uragani si chiamano si chiamano per ogni anno con le lettere dell'alfabeto quindi primo comincia con la A secondo con la B terzo con la C l'anno scorso Anita hanno finito le lettere dell'alfabeto infatti voi potete vedere qua che si arriva a V W e poi sono andati alfa, beta, gamma, delta questo significa che l'anno scorso ci sono stati molti più uragani di quanto l'uomo avesse mai calcolato cioè perché prima magari si arrivava alla R alla T alla S l'anno scorso hanno dovuto tirare dentro anche le lettere greche e questo diciamo fenomeno degli uragani non è soltanto un fenomeno che riguarda quella parte del mondo dove io abito dove avete visto la devastazione che ha portato l'uragano Ian riguarda tante altre parti del mondo l'avete visto anche nel Mediterraneo ogni tanto parte un uragano e perché partono perché si moltiplicano questi uragani perché ci sono una serie di fenomeni che convergono verso il potenziamento di questi che sono dei fenomeni naturali tra cui la temperatura più acqua più calda eccetera eccetera adesso però voi mi direte sì ma adesso mi do una martellata perché la capua ci dà tutte queste brutte notizie io vi arrivo cerco di arrivare a portarvi delle buone notizie la prima buona notizia che vi voglio portare è che Greta che è un po' diciamo la ispiratrice della generazione Z e una insomma persona che veramente ha acceso i riflettori su dei problemi seri ci ha fatto notare che se noi ci fermiamo non siamo arrivati al punto del non ritorno se noi ci fermiamo l'inquinamento si riduce se noi ci fermiamo se noi rivediamo determinati modi di comportarci non siamo arrivati al punto del non ritorno cioè è possibile ritornare ad avere le condizioni diciamo più salubri perché perché noi l'aria la respiriamo cioè non ci dimentichiamo che se noi non respiriamo aria siamo morti l'aria è assolutamente essenziale e l'ultimo elemento di cui vi voglio parlare è il fuoco perché il fuoco quest'anno si è fatto sentire si è fatto sentire perché fa molto caldo ma sono anni che brucia la California sono anni che bruciano parte intera dell'Amazonia sono prima della pandemia vi ricordate gli incendi in Australia che c'erano i coalini i poverini col naso scottato ma che cosa provocano gli incendi provocano devastazione e fuga fuga degli animali e quindi squilibrio di nuovo squilibrio insieme ovviamente all'elefante giallo nella stanza che è il riscaldamento globale e io su questo non vi voglio dire cose che già sapete però vi voglio dire una cosa che mi ha detto mia figlia che è un po' più grande di Anita e lei mi ha detto senti mamma ma tu lo sai che la tua aspettativa di vita che diciamo diciamo tra 80 e 90 va bene diciamo in questa finestra la tua aspettativa di vita è simile alla mia aspettativa di vita cioè di lei di mia figlia che ha 18 anni ma l'aspettativa di vita dei miei figli cioè dei suoi figli cioè dei miei nipoti non è come la vostra è molto più bassa e questo se mi permettete non è giusto noi siamo arrivati al 2020 sani avendo mangiato carne e quindi con lo sviluppo della dieta siamo diventati più forti siamo diventati più intelligenti siamo abbiamo sviluppato le medicine ci siamo curati ci stiamo curando quello che i miei nipoti rischiano di dover affrontare è un orizzonte i nostri nipoti eh in caso i miei è un orizzonte nel quale l'aspettativa di vita magari sarà 60 anni e questo proprio non è giusto che noi ci prendiamo tutto questo tempo ci prendiamo questa risorsa di vita dai nostri figli e dai nostri nipoti bene mi avvio a concludere mi avvio a concludere dicendovi però che adesso non me lo ricordo però insomma si vede perché praticamente ci sarà cioè tantissimi degli sto parlando a livello globale dei villaggi a livello che stanno su su le coste cioè basta vedere cosa hanno fatto i tifoni in Pakistan no? avverranno degli eventi che spazzeranno via intere comunità quindi questo non è non è proprio giusto allora io però volevo avviarmi a concludere e a darvi un paio di così note di speranza noi ormai siamo degli umani potenziati perché siamo dotati di telefonaino e sul telefonaino noi ognuno di noi è attaccato a sette device in media sette il computer uno più uno il telefonino l'altro telefonino che ti serve per parlare con l'iPad e già siamo arrivati a cinque ci metti altre due cose noi siamo ipercollegati e generiamo dati cioè ognuno di noi può sapere quanto hai camminato quanto hai bevuto quanto hai mangiato che cosa hai fatto quali sono state le tue abitudini e tutti questi dati che sono dati che riguardano la sfera sanitaria ma non solo sono dati che devono essere utilizzati devono essere messi a frutto devono essere utilizzati e messi insieme per proteggere il nostro sistema chiuso e io vi ricordo anche che la pandemia da covid 19 è l'evento più misurato della storia quindi noi abbiamo informazioni su tutto quanti aerei sono volata quanta benzina hanno consumato quanti passeggeri tutto sappiamo e vogliamo usare questi dati solo per farci vendere la pubblicità o vogliamo usarli per mettere insieme dei pezzi che ci aiutino aiutino le nostre donne del futuro i nostri uomini del futuro ad affrontare perché questo è quello che io vi voglio dire io vi voglio dire che noi a questi qua gli dobbiamo spianare la strada perché loro avranno dei problemi giganteschi da affrontare e come possiamo farlo? Possiamo farlo innanzitutto con la consapevolezza e non buttare i farmaci dentro l'immondizia se comprate le bottigliette d'acqua di plastica finitele non buttate la plastica con l'acqua dentro perché sprecate l'acqua quella plastica poteva essere riutilizzata e allora grazie ai comportamenti di ognuno di noi e grazie a una forma di consapevolezza aumentata di cittadinanza aumentata ognuno di noi può fare il suo pezzettino e questo mi riporta al disegno iniziale quello con aria acqua terra e fuoco e da questo disegno si capisce come quello che arriva dalla terra che ci nutre che ci porta però anche malattie come il pangolino per esempio come il pipistrello noi dobbiamo salvaguardarlo dobbiamo usarla con intelligenza questa risorsa non possiamo riempirla di antibiotici e di farmaci guardate che i farmaci quando vengono eliminati dal corpo sono ancora farmacologicamente attivi quindi c'è tipo succedono cose stranissime il farmaco va a finire nell'acqua i pesci cambiano sesso capito succedono delle cose dove si mettono dei farmaci nell'ambiente e le specie animali che sono appunto parte della biodiversità ognuno fa quello che può e reagisce come può a quel farmaco allo stesso modo dall'acqua dall'acqua ci sono delle malattie che sono trasmesse dall'acqua come il colera ma l'acqua è la nostra fonte primaria di vita e oltredutto dall'acqua viene il pesce e il pesce nutre milioni miliardi di persone e noi gli oceani adesso non ve lo sto a fare tanto lunga ma noi abbiamo sbilanciato l'equilibrio dentro gli oceani con la sovrappesca abbiamo fatto delle cose che non possiamo più fare e allo stesso modo l'aria l'aria che ci serve per respirare l'aria che ci serve per viaggiare anche quella deve essere oggetto della nostra attenzione e poi ovviamente il fuoco il fuoco il caldo il fuoco è salvifico a volte il sole è fatto di fuoco senza il sole non ci sarebbe la fotosintesi non ci sarebbero le piante ma il fuoco è anche incendio e distruzione il fuoco è anche melanoma se non ti curi e quindi quello che io vi voglio dire e quello che spero di riuscire a convincere sempre più persone di fare è quello di capire che noi siamo completamente parte di questo sistema non solo perché abbiamo i telefonini ma biologicamente lo siamo e con la tecnologia che cosa dobbiamo fare dobbiamo mettere insieme i pezzi perché la salute è unica è la salute del sistema non è la salute dell'individuo è la salute di un sistema che deve rimanere in equilibrio e come ci si arriva allora ci si può arrivare in tanti modi però io vi voglio dire una cosa noi abbiamo questa questa è un percorso ben chiaro che non sarà perfetto per carità perché non è che nulla è perfetto ma che è diciamo un modo per riequilibrare alcune cose è l'agenda 2030 l'agenda della sostenibilità allora noi dobbiamo attraverso questa agenda noi dobbiamo portare la salute a convergere nel senso che attraverso le azioni che sono previste da questo percorso da questa roadmap dobbiamo avanzare la salute di tutto il sistema e qui vorrei il commento finale di stavo per di Arianna Anita vorrei sapere vorrei chiederti perché abbiamo finito che cosa vedi qua che cosa ti viene in mente che cosa ti fa pensare questo disegno è che sulla prima immagine c'è l'uomo una piramide e l'uomo prima degli animali e tutto il resto e invece nella seconda l'uomo fa parte del tuo sistema eh sì e quindi nella prima che vi faccio notare che l'uomo è sopra e la donna è sotto che non va bene intanto ma l'uomo è in cima a tutto quindi l'uomo è invasore è estrattore è distruttore mo mi prendo sta balena pum me la prendo perché mi serve perché io senza la balena non posso stare io me ne frego delle tartarughe che hanno le lesioni da herpes ma che mi frega sapete voi una cosa che le tartarughe sono fra i pochi animali che mangiano le meduse quindi se non tartaruga un sacco di meduse e invece nell'altro dove la donna è in alto l'uomo è un po' più in basso si cerca di diciamo rappresentare che si tratta di un sistema circolare appunto un sistema di interconnessioni e interdipendenze di cui noi siamo parte non solo però noi siamo oppure quelli che hanno più cervello perché se volete lo possiamo chiedere all'ombrico cioè possiamo chiedere a un altro animale gli diciamo senti l'ombrico oppure all'umacone quello di prima gli diciamo senti vieni qua vedi un po' tu di mettere a posto io invece credo che come umani aumentati come umani che hanno molte più conoscenze consapevolezze e capacità personali ma anche di relazione noi dobbiamo essere i motori di questo cambiamento circolare dobbiamo essere quelli che mirano a ristabilire gli equilibri anche attraverso la tecnologia e con questo io vi saluto vi ringrazio perché vi ho visto tutti molto attenti non si è addormentato nessuno che con questa uggia non era da dare per scontato chiedo scusa pubblicamente a Arianna no detta a posta ad Anita che però pure devo che hanno dato un nome mica tanto facile a Anita e vorrei per piacere che faceste un bel applauso ad Anita la quale la quale povera è stata coinvolta come generazione Z e come donna di domani non ce lo dimentichiamo loro sono le donne di domani e noi dobbiamo fare tutto quello che c'è possibile fare veramente per spianarle loro la strada grazie tantissimo vi abbraccio e bravi che avete la mascherina grazie a tutti